Allianamento perfetto, accento dallo stacco, partiti in questo momento con Mateus che cerca di scavalcare quelli all'interno, lo fa facile, regge quelli di fuori dai quali si ritrae dalla lotta Nureyev-Ciampi, insiste ancora più a largo Nedel, c'è in mezzo anche Morgano P che però va in corda, Nedel con Enrico Montagna, sceglie i tempi giusti d'attacco, fa 13,8 di frazione ed è leader davanti a Mateus, adesso si allunga la fine indiana nelle spalle di primi, nelle retrovie credo che sia di galoppo Gladio Torlux ma siamo completamente contro sole in questa fase di gara, 27,3 la strappata iniziale di Nedel che Mateus segue a che lunghezza, i 500 non hanno ancora preso in mano Montagna, di fuori viene Melio di De Chiari che nella risalita anticipa Nureyev-Ciampi che è rimasto di fuori, poi il 12 di Melilla-CR mentre il gruppo è chiuso da Mansfield, Montefato e Nocciolaiaget, rallentamento ma non troppo per i 600 di gara, Nedel corre davanti da assoluta protagonista, 36 vuol dire fare 58 scarsi per, intanto galoppa Mansfield nelle retrovie, uno dei concorrenti che poteva avere qualche chance finisce a tabellone, intanto si arriva il chilometro attorno all'1,13 con anche Gladio Torlux va a tabellone, adesso per il gioco di posizioni finisce in ultima posizione Nocciolaiaget, la precede Montefato che tenta la risalita ma il ritmo è sostenutissimo, c'è Matteus adesso che non ha la destra libera, sta letteralmente montando sul sulchi di quella davanti che comunque ha fatto ancora 39, in vantaggio Nedel, Matteus che gradualmente Greppi sposta centimetro dopo centimetro all'esterno anche perché c'è il calo esterno di Melo di De Chiari, si propone di fuori anche Nureyev-Ciampi ma intanto Matteus va ad aggredire Nedel che comunque reagisce ancora bene anche se cala nei 100 conclusivi, si aggiunge alla lotta Morgana Opini sul traguardo, Matteus vince soffrendo comunque anche se è passato forse più facile di quello che non sembri perché Greppi muoveva poco le mani su una monumentale Nedel che ha venduto carissima la pelle, 29,7 la chiusa, Matteus batte di un'incollatura l'avversaria che ha tenuto andatura eccellente per tutta la corsa, il tabellone ci ragguaglia, 1,13,6 con Morgana Opini e Porzio Junior che fanno il terzo vicini ai primi e discosti da Montefato che è quarto lontano con il numero 10 ma comunque ancora bene in quota, numericamente quindi l'ordine arrivo della quarta che, lo ripetiamo, è anche la seconda tris nazionale, 3 di Matteus, 7 di Nedel, 5 di Morgana Opini.